Salve a tutti, ben tornati in questo nuovissimo video, sempre su Resident Evil 2 Allora, innanzitutto non so se la qualità video è cambiata in meglio o in peggio Forse in meglio, teoricamente Invece di registrare il video in 2K con Shadowplay, come per i primi 3 episodi Adesso sto usando BS Prima con Shadowplay la mia voce si sentiva più grattata, mentre qua si sente bene E ho fatto un sacco di test, ci ho messo una vita a fare dei test con OBS perché non andava bene, eccetera Allora ho detto, vabbè io metto che lo schermo, vabbè 2K, però lui me lo registra in 1080p 70.000 bitrate e va da dio e si vede molto molto bene Quindi speriamo non ci siano cali di frame o altre cose, cioè cali di frame più che altro su OBS Ho fatto tanti test e non ce n'erano, quindi speriamo bene che non pesino l'ira di dio Poi vedremo Allora Io devo andare Devo trovare un pezzo per creare il detonatore Allora Qui c'è il coso Poi c'è l'operation room C'era uno detto tipo next to the operation room Però qual è l'operation room? Eh Qual è l'operation room? La stanza delle operazioni, che cosa intendono? Hmm Ehm Ehm Quello del briefing Qui c'è quella del briefing E c'è questa qui Proviamo Non lo so Ho visto solo un video Uno diceva Lo trovate lì Ora lo devo trovare Oddio Ce l'ho il coso L'audio spero non sia troppo alto Perché è vero Mi registra una traccia sola Non mi fa come con shadow play Che me li divide Orca puttana Vaffanculo Che mi hai fatto caccare sotto Che ti sei rialzato Eh brutto bastardo Diglielo Che cazzo Mi fai finire tutti i cosi E dai Quanti sono adesso Ma che E' un'altra chiave ancora diversa Eh dai Basta Quanti stracazzo Sono diventati qui Tutti dalle finestre Oh c'è questa da aprire Eccola Locker room cap Dammela questa Che poi li rinchiudo Da questi Ok Nice 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 Eccola la stanza Che mi mancava Ora io ho tre colpi qua 4 e 8 Il coltello Mi prendo un'altra pianta Non ho polvere da sparo No Non ho preso la batteria Combina con questo Ottimo Bene Ok Farei un altro salvataggio Visto siamo qua Che non gli fai salvataggi Eh Per non fare prima Bisogna salire di qua Ho messo il timer Penso di sì Yes Vedando c'è anche BS Che mi dice da quant'è Che sto registrando Però Non lo guarderei Salve 8 7 6 5 Va Yeah Ok 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 E' cascato Che cazzo c'è Che corre Oh Ok Taccuino Donna Arco Serpente Oh mamma Donna Arco Ok Ok Per quanto parere Il serpente Porca Modusca No 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 Oh cazzo l'ho ucciso? No l'ho solo messo a terra Dai non ho colpi Dai Dai Sta arrivando Vai via L'immortalità c'è due di due noni Oh Ah 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 La prendo in caso ne trovo un'altra Dammi la granata stordente Mannaggia Ah Per ora non ho colpi Se trovo qualche zombo E io ne ho un problema Bene Usciremo da qui Tenente Brana Marvin Dobbiamo andare Ehi Marvin La portiamo subito in ospedale No No Dio Pensa a salvarti Forza l'aiuto Vai Senta Possiamo ancora uscire insieme Serve solo Eh dammi colpi Me li dai colpi Quella pistola Ci ho provato Lio Ma ora è troppo tardi Però se ora esco E non ho la chiavetta osb Non posso prendere la didgle Che ora tocca a te Adesso vai Non so se poi posso tornare indietro Va bene Non la deluderò Marvin Lo sapeva lui Lui lo sapeva Questo è il mio uomo Proviamo che siamo già qui Senti che me lo fai usare Questo bastone di merda Non è palle Dai lo posso infilare dove voglio Questo bastone Dopo tre episodi Cambiamo scena Cosa diavolo Se me ne vado sotto sotto Di qua Trovo qualcosa Che mi potrebbe Servire Granata Dai Spazio in pugno E lancia Potrebbe essermi utile Dato che E cos'è Non riesco a capire Pistola Abbiamo pistola Con strutture in polimere Servo un qualcosa Ok Ok Questa non la posso aprire Va bene Allora devo andare su Dove L'abbiamo visto prima Oh Sei colpi totali Una flash Se mi attaccano Madonna Non riesco a capire Stai scherzando Stai scherzando Io non ho niente Per combattere Questa Se me lo fa combattere Ora Io non ho niente Per combatterlo Non ho colpi Per combatterlo Mi sembra Mi sembra Non è più coraggionevole Dai Porca Puttana Come fa Oh merda Sono rinchiuso Nonna Questo va veloce No Non vengo Vaffanculo Sono nella merda Io l'ho distrutto Io l'ho distrutto Devo farlo fuori Direi Direi Che non hai scelto Lo devi fare fuori E cos'altro avresti voluto fare Devo passare Per andare a prendere L'altra Roba Altri proietteli Che ho visto Altri proietteli Da qualche parte Da qualche parte Non esplodero Non esplodero Non esplodero Chi ha rifatto Il trucchetto Di merda E dai Ciccio I miei colpi Non durano Per sempre Per sempre Io non so Come fargli male Poi Dov'è che mi risbuca Che sto facendo Nel modo giusto Che sto facendo Che sto facendo Ok E ora E ora E ora Che sto facendo Che sto facendo Senza munizioni Che sto facendo Che sto facendo senti per quanto ancora dovremmo fare giro giro tondo amico io non so più che inventarmi e ho lanciato la granata ho usato tutti i colpi addosso se sei ancora qui che ci racconti le storie di quando eri un ragazzino a me la testa mi dice di fargli spaccare le cose a me la testa 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 a me la testa